ciao ciao nome margherita luigi giulia data di nascita 20 giugno 2006 10 10 1997 15 settembre 2009 capelli corti o lunghi lunghi per adagiati corti mediteria difetti degli altri allora questa c'è da pensare difetto di babbo allora allora è un po pesante no no non è pesante un po c'è si sbaglia qualcosa cioè un po non so lo so e non ci sono allora è un po bimmi mi muiamoci è un po pesantuccio Ah, è di Giulia, devo dire. Di Giulia si arrabbia in due secondi, quindi sì, questo è di Giulia. Vai! Difetto di Marghe? Permalosa. Un po'. Difetto di Giulia? Testarda. Grazie, grazie. Difetto di papà, quando fai, per esempio, non lo so, un po' bello, comunque, allora, di cazzo di papà, che si va a continuare a mamma, cioè per esempio, la verità, tipo, mamma dice una cosa, lui va con mamma, cioè vuole dire la stessa cosa di mamma, sta d'accordo con mamma. E non sta d'accordo con noi. E quindi, poi quando si incazza mamma, lui dice, vabbè, questo è un pregio di lui. Poi, un pregio di Lenne? Acida e smorfosa. Difetto, si dice. Eh, vabbè, fai niente, ho detto a me. Colazione preferita? Biondella. Io... Cornetto e caffè. Cornetto con cioccolata bianca e killer guero bianco. Nomignoli in famiglia. Allora, a me Babbo mi chiama Maggie Marghe e basta Giulia invece mi chiama Lalle. Papi. No, io ti chiamo Babbo. Mamma. A me Papi, Babbo. A me Lalle mi chiama Giulia oppure a Molte Giulia quando si incazza. E mamma mi chiama Patatino oppure Patata. Babbo mi chiama Buffetta oppure a Molte Giulia. Mare o montagna? Ehm. Allora, io mare perché vabbè ci sono tre mesi, c'è caldo, sbutta ma è ok. Però a me è molto bella. Mare o montagna ha detto? Mare o montagna ha detto? Mare o montagna? Mare o montagna? No, no, no. Ti piace il mare o la montagna? L'ha detto il livello d'estate o... Ehm... Mare. Mare. Decisamente mare. Mare. Mare per fare tuffi quando cazzo, c'è, quindi questo è il mio motivo valido perché durò l'estate, l'inverno, la fumo basta. Mare, stumbo, stumbo, stumbo. No, amanti. Però anche lei è la montagna, mi piace. C'è, non so cosa decidere. Shhh. Animale preferito. Allora, me il cane. Il mio animale preferito è il cane. Dipende. Quale dipende? Dipende. Allora, a volte dovrebbe essere qualche ciuchino. Il ciuchino del tutto. O qualche biperetta. La biperasta. Il mio animale preferito. No, la biper... Allora, io. Il mio animale preferito è il cane. Il mio. Ehm... Il mio. Ehm... Ehm... Ma quando mai ti piace il cane? Ehm... Mi piace il cane. Ehm... Ehm... Sushi o McDonald? McDonald? Mh... Mmm... Tutta la vita. 3, 2, McDonald. Io, McDonald. C'è, c'è, chi è che non adore il McDonald? Gelato preferito. Quello lì del McDonald con il ciucholato, il sandwich. Caramello. Con il caramello, no? Ciucholato. Caramello. Con il caramello, no? Ciucholato. Caramello. Caramello. Mmm. Fatimi gusti. Caldo. Gelato... Caldo. No, preferenze. Gelato artigianale, succo. Gusto... Pesante, pesante. Nocciola. Interbueno. No, io... Sono... Non mi piace tanto il dolce, ma... Se dovresti decidere il gelato del McDonald. Se dovessi decidere il gelato del McDonald con la panna. Extra panna. Cioè, a volte mi mettono la panna a volontà. Quindi... Panna. Ti piace il tuo nome? Si, e tanto. Un po' a lungo, però tanto. Il mio... Ormai ce l'ho... Da tempo... Mi sono abituato. Mi piace? No, vabbè... Non ho preferenza. A me piace. Mi piace? Bellissimo nome. A me... Mi piace... Perché ho un sacco di Spermone. Cioè... Giulietta Buffetta. Un scusco. Scusco. Colore giurro. Piatto di pasta preferita. Piatto di pizza. Perché... Non mi ricordo. Allora... A me piace la... Cioè... L'ho mangiato... La pasta per la beciamella. Buona. Però salsa e beciamella. Mamma è la Lucia. Non so... Se come la fa... Però è beciamella. Ah, come è bella. Spaghetti al sugo come li fa a mamma. Mmm... A me... Ma spiego come si chiama... Come si chiama la carbonara? Eh, carbonara. Eh, carbonara. Ma io ho sentito due primi gatti che non vi mangiate mai. Boh, secondo me state barate. Non è vero. Quella pasta con la beciamella è troppo buona. Devonti. Devonti. Il tuo sogno nel cassetto. Diventare o un'attrice... Allora, attrice o cantante sicuramente. Ma che cosa? Cosa pesante. Vai Giulia, vai. Ah, e perché? Tu no. Vai, dico alla fine. Eh, cantante. Eh, eh, senti. A te non ti piace cantare. Vabbè, questo è stonato. Quindi... Non gli possiamo fare niente. Quando canta... Ah, che chiacchierona! Stop! Quante domande ci sono ancora? La domanda è risposta. Non discorso. Eh, molto. Parla. Il mio sogno è nel cassetto. Vedi realizzare i vostri sogni. Giù lì. Ok, allora... Sono finite le domande. Basta? Ok. Quindi... No! Aspetta! No! Riparte! 3... 2... 2... 2... Quindi ragazzi, questo è il video. Spera riuscire. Spera riuscire a 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 riuscire. Spera riuscire a 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 riusci Lasciate il like, commentate, commentate dal canale, condividetelo se non vedete il suo gioco.